Sì, sicuramente è una vittoria meritata, a Benevento abbiamo un po' sofferto, però la squadra è viva, abbiamo riagganciato la partita, però adesso pensiamo sempre a presente, già pensiamo alla prossima partita perché non vogliamo mollare. Sono contento, sono contento che abbiamo vinto perché è la cosa fondamentale, mi piace lottare per la squadra e quando portano i tre punti per me è fantastico. Hai detto mi piace lottare per la squadra, oggi hai lottato tantissimo, hai recuperato una quantità industriale di palloni, li hai protetti, hai servito assist per i compagni, sei andato vicino al gol del 3-0 con il sinistro, bella giornata per te. Sì, potrebbe andare meglio perché l'attaccante vive per il gol, però come ho detto se vinciamo non conta niente il gol personale, però diciamo che un pizzico di fortuna in più, quel tiro a giro pensavo fosse dentro, anche l'altra azione col destro, ero molto defilato e volevo tirare sotto le gambe del portiere, però non è successo. Però la squadra è a minuto 2-0, il mister mi ha dato fiducia che mi ha tenuto in campo tutta la partita, io cerco sempre di aiutare la squadra perché è quello che mi sta chiedendo e io darò sempre l'anima come ho fatto. Ghetano, i numeri dopo questa vittoria dicono che il Pescara è a tre lunghezze dal primo posto e ad un punto dalla piazza d'onore, per la serie A diretta c'è anche il Delfino. No, noi siamo lì, lottiamo, la squadra è umile, testa bassa, gli obiettivi erano altri inizio anno perché l'anno scorso come sapete abbiamo sofferto tanto, però noi siamo lì, non molliamo mai un centimetro, andiamo a lottare con tutti, ce la cerchiamo con chiunque e questo stadio deve essere il nostro fortino perché noi ce la cerchiamo, poi a finale otterremo le somme, siamo già lì e per noi è veramente un motivo d'orgoglio perché non se l'aspettava nessuno adesso a marzo di essere lì, quindi continuiamo così perché secondo me possiamo fare grandi cose. Ghetano, ha notato una cosa, un po' cosa che vedo spesso nel rugby, quando qualche tuo compagno ha un contrasto con un avversario sei tu il primo ad andarlo a difendere? Sì, io sono abbastanza caldo, essendo siciliano da piccolino ho iniziato subito a difendermi da solo perché a casa mia non era molto facile la vita perché c'era piena di insidie, quindi per me quando toccano un membro della mia famiglia, perché questa adesso è la mia famiglia, non devono stare attenti perché se mi metto in mezzo poi non capisco più niente. Tornando alla partita, oggi non sei riuscito a segnare, però partita, gara dopo gara, cresce il feeling con Mancuso, vi trovate sempre di più? Sì, Leo è un grande giocatore, lo sta dimostrando, anche oggi ha segnato, è un ottimo periodo di forma, poi ci aiutiamo tantissimo perché secondo me siamo complimentari, perché riusciamo a giocare bene tra di noi, riusciamo a allargare difesi, a creare spazi per gli altri, perché anche sul primo gol di Mancuso, avendo due attaccanti in aria, con la mezzala che si inserisce, possiamo mettere davvero in difficoltà e quindi finalmente ci stiamo divertendo. Spero di gioire pure io, però come ho detto l'importante è vincere. Chiedo un'ultima cosa dal punto di vista tattico, proprio su questo nuovo modo di scendere in campo del Pescara dal punto di vista della formazione, che cosa è cambiato con il trequartista e due punte? No, è cambiato secondo me che siamo più combatti, riusciamo a mettere più in difficoltà le squadre, fanno fatica ad uscire le palle al piede, magari fanno qualche lancio in più sui campi di gioco perché il campo sulle facce hanno più libertà, però riusciamo a scalare bene in fase difensiva e quindi con due attaccanti, come ho detto prima, è più difficile per un difensore difendere. Grazie. Grazie.